Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Hippocamper. Oggi, come avete visto, siamo in studio. Mi sono costruito questa specie di studio per essere un pochino più comodo e per inaugurare, tra virgolette, una nuova rubrica. La rubrica si chiamerà istruzioni per l'uso. Ci è venuta in mente questa idea perché riteniamo che molto probabilmente, anzi sicuramente, la maggior parte di noi non utilizza questi pezzi di carta che io vi ho stampato. Questi pezzi di carta non sono nient'altro che le istruzioni dell'uso degli idosti dispositivi. Ditemi la verità, noi prendiamo il telefonino con qualsiasi accessorio, una lavatrice, prendiamo, la buttiamo lì, lo apriamo, lo scarpiamo, eccetera, ci iniziamo a giochicchiare. Ecco, quante sono le persone che si leggono le istruzioni? Veramente poche. Ecco, a questo punto l'idea, la mia idea è stata quella, ok, leggiamole insieme. Perfetto. Questa vuole essere semplicemente un piccolo tips. Penso siano rubriche che dureranno molto poco perché, insomma, quello che per esempio vi vado a presentare oggi non è nient'altro che il comando Trumatic che voi conoscerete perfettamente, quindi il comando della stufa Trumatic C che noi abbiamo nei nostri veicoli, i nostri veicoli un po' più datati e poi è stato sostituito con diverse altre versioni, però insomma l'idea è quella di spiegarvi un po' come funzionano i vari accessori che abbiamo all'interno dei nostri veicoli, non solo i comandi, ma anche diversi altri oggetti e siccome la lettura delle istruzioni d'uso è così rara attualmente, devo dire che fa bene anche a noi, nel senso che nonostante noi conosciamo il funzionamento diciamo al 90%, c'è sempre un 10% che vi posso assicurare viene fuori con un'approfondita lettura di questi fogli che sinceramente, visto che sono stati scritti da qualcuno che probabilmente li ha progettati ne sa sicuramente più di noi, quindi cerchiamo un attimo di leggerli insieme. Prima di fare questo vi esorto a iscrivervi al canale e a mettere un like se questo e altri video vi sono piaciuti, di condividerlo con i vostri amici se ritenete possano essere utili anche agli altri e di attivare la campanella così sarà più facile ricevere le notifiche dei video che metteremo prossimamente sul canale. Allora incominciamo, parliamo stiamo parlando della Trumatic C, vi lascio anche il link che trovate all'interno del canale e che avevo fatto sull'Inet, sul funzionamento dell'Inet, in realtà quello creeremo una playlist e lo metteremo anche quello all'interno delle istruzioni per l'uso, nonostante non abbia questo format, quindi non sia considerato, sia stato fatto prima, pensato in maniera un pochino diversa, però riteniamo che il concetto sia praticamente lo stesso e quindi è giusto inserirlo lì all'interno, quindi la mia intenzione è quella di crearvi una playlist con istruzioni per l'uso che potrà essere considerato un contenitore con tutte queste istruzioni per l'uso dei vari dispositivi. E allora la Trumatic C è la classica stufa che voi potete vedere, vi metto qui alla vostra destra, è una stufa particolarmente complessa quindi è giusto dargli diciamo lo spazio adeguato, quindi faremo sicuramente più video che ci consentiranno di valutare tutta la componentistica, un po' il funzionamento, però quello che mi interessava adesso per le istruzioni per l'uso è, parliamo del comando, cioè come la dobbiamo utilizzare principalmente. Allora innanzitutto la stufa è composta appunto dal cilindro, ma a voi questo non interessa, voglio parlare esclusivamente del comando, vi dirò un po' un attimo i componenti e lo leggeremo un pochino insieme, mi farà da guida. Allora il comando chiaramente è composto in questa maniera, come vedete ha la parte esterna che è una cornice che poi rifinisce, poi è composto in questa maniera, nella parte posteriore c'è questo coperchietto che possiamo staccare e che dà accesso alla scheda dove vedete questo connettore che si trova in questo punto qui, chiaramente voi da dietro probabilmente non vedete niente, o avete il comando incassato oppure avete il connettore con il coperchietto coperto, quindi non avete accesso a questo connettore, ma questo connettore si può tranquillamente staccare, è accessibile da questo coperchietto. Nella parte frontale noi abbiamo il comando vero e proprio, quando vero e proprio è composto da una ghiera esterna che si può spostare e da cinque posizioni, posizione di riposo, quando questa piccola escrescenza è posizionata in posizione orizzontale, ovvero verso lo zero, le due posizioni superiori che sono le posizioni di riscaldamento acqua calda, le due posizioni inferiori che sono il posizionamento diciamo invernale, la prima verso il basso che è la posizione del riscaldamento dell'abitacolo, la seconda è la posizione del riscaldamento più l'acqua calda. Adesso lo riposizioniamo verso zero e ve lo spiego un pochino più in dettaglio. Logicamente all'interno è presente anche questa, quest'altra ghiera, quest'altro, questo è un potenziomero fondamentalmente con indicazioni da 1 a 9. Questo non è nient'altro che la nostra interfaccia per dire alla stufa a che temperatura vogliamo l'abitacolo. Quindi i componenti sono il comando, abbiamo la stufa che andiamo a comandare tramite appunto il comando, ma abbiamo anche il sensore, la cosa importante appunto del sensore che vedete qui è che in funzione di dove è posizionato può essere più o meno preciso, ovvero noi vogliamo impostare la temperatura a una certa, vogliamo l'abitacolo a una certa temperatura, in funzione del posizionamento del sensore noi riusciremo a raggiungere quella temperatura con l'impostazione del termostato in una certa posizione, quindi 5, 4, 3 o via dicendo. Ma torniamo un attimo indietro. Allora, quindi questo è il comando come avete visto, le sue funzioni sono la funzione estivo, funzionamento estivo e il funzionamento invernale, come viene detto qui dal manuale. Per quanto riguarda il funzionamento estivo, loro lo chiamano così, ma si tratta semplicemente di riscaldare l'acqua che può essere riscaldata a 40 gradi o a 60 gradi. Per riscaldarla a 40 gradi non facciamo nient'altro che ruotare di una tacca in senso anti-orario la nostra ghiera, non dobbiamo toccare, oppure possiamo anche toccarlo, ma tanto non ha efficacia la parte superiore del potenziometro perché logicamente lui controlla la temperatura dell'ambiente, quindi parla con il sensore di temperatura che in questo caso non viene interessato. Aspettiamo circa una ventina di minuti, dopo una ventina di minuti abbiamo l'acqua più o meno, insomma adesso lasciate il beneficio inventario perché chiaramente poi la temperatura finale dipende anche dalla temperatura interna dell'acqua, questo è ovvio. Quindi circa con una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti abbiamo l'acqua a 40 gradi. Considerate sempre che, come dico sempre, come il boiler noi praticamente abbiamo una pentola sul fuoco, quindi il gas deve riscaldare l'acqua e per fare questo necessitiamo del tempo, quindi insomma il tempo per farla riscaldare. Per una maggiore quantità di acqua calda noi ci spostiamo verso i 60 gradi come vedete qui e avremo quindi dopo questa volta non 20 minuti ma un po' più di tempo, avremo la temperatura dell'acqua a 60 gradi che potremo miscelare, quindi avremo proporzionalmente maggior quantità di acqua calda, circa ci vogliono dalla mezz'ora e 40 minuti, più o meno insomma. Ok, e questo è il funzionamento estivo. Per quanto riguarda il funzionamento invernale, a questo punto dobbiamo ruotare in verso orario, quindi verso il basso, la nostra ghiera e posizionare l'indicatore verso la fiammella. Questo significa che vogliamo il riscaldamento dell'abitacolo. A questo punto il comando parla con il sensore di temperatura che sarà posizionato dove vi ho detto, quindi sopra la porta, oppure dietro una dinette, oppure in corrispondenza, più o meno dovrebbe essere diciamo d'altezza umana, ecco non troppo basso né troppo alto. Ci è capitato, vi dico questa renda, ci è capitato per esempio di un diverso tempo fa di aver scovato un sensore posizionato dietro una spalliera con dei cuscini davanti che praticamente lo coprivano. Ecco, non si riusciva a raggiungere la temperatura e a regolare la stufa perché in realtà questo sensore essendo coperto era praticamente coibentato dal cuscinone che stava davanti e quindi la temperatura era completamente sballata. Quindi è importante che il sensore sia libero, che poi non è nient'altro che una resistenza variabile, quindi in funzione della temperatura, quindi è molto importante che sia in aria libera. Quindi per decidere qual è la temperatura dell'abitacolo più confortevole per noi, logicamente in questo caso di stufa, dobbiamo fare delle prove e quindi tendenzialmente per come è progettata la stufa, noi abbiamo che tra i 4 e i 6 abbiamo una temperatura, l'abbiamo più o meno la temperatura di comfort che va dai 18 ai 23 e 24 gradi. Più ci spostiamo verso l'alto, quindi verso 7, 8, 9, considerate che a 9 corrisponde più o meno il sensore è tarato intorno ai 30 gradi, quindi la temperatura diciamo africana, diciamo così. Verso il basso invece verso l'1 abbiamo una temperatura sotto i 14 gradi, quindi la temperatura di comfort almeno per le persone umane come me, almeno io ritengo che sia questa temperatura di comfort. Poi ieri è venuta una signora con un van, che saluto, diciamo a cui abbiamo monitorato la batteria, che diceva che dormiva a 10 gradi, per carità ognuno poi è libero di fare ciò che vuole, io gli ho detto che 10 gradi secondo me non sono una temperatura adatta alla vita, ma insomma ognuno ha le proprie abitudini. Portato il camper in temperatura, la stufa mantiene l'abitacolo a quella temperatura, logicamente il camper essendo riscaldato a temperatura maggiore dell'aria esterna cederà calore verso l'esterno, questa cessione dipenderà dalla coibentazione del veicolo e dalla temperatura esterna, quindi dal delta diciamo di temperatura che c'è tra l'esterno e l'interno del veicolo, maggiore sarà questo e maggiore è questa cessione di calore, maggiore è la qualità della coibentazione e minore sarà questa cessione. Quindi, in base a questo, quando la temperatura si abbasserà la stufa, inizierà il suo riscaldamento dell'abitacolo cercando di mantenerlo alla temperatura impostata. Chiaramente vi consiglio di provare circa più o meno a 5, se sentite caldo la portate a 4, se sentite freddo la portate a 6, questo è ovvio insomma, quindi fate dei piccoli scostamenti, questo non è un ventilatore, cioè non è che più spostiamo verso numeri alti e più la stufa va veloce, non è così, perché la logica di funzionamento è completamente un'altra, cioè vede la differenza di interatura e in base a quella si regola. Parliamo invece dell'ultima tacca, che sarebbe questa, ovvero il riscaldamento dell'abitacolo e il riscaldamento dell'acqua. Questa è la posizione in cui la stufa si trova alla sua massima diciamo potenza, la sua massima espressione viene utilizzata diciamo completamente, quindi porta prima di tutto il veicolo alla temperatura che noi abbiamo impostato, quindi se è 23 gradi la porterà a 23 gradi, 18 a 18, e poi si preoccupa di riscaldare l'acqua. Questo processo essendo un processo termico, come tutti i processi termici, necessita tempo, quindi considerate che quando fa molto freddo il tempo che ci mette per riscaldare l'acqua e portarla a 60 gradi è sicuramente abbastanza elevato, parliamo anche sopra i 45 minuti, dipende dalla differenza di temperatura dell'abitacolo e alla temperatura e a cui si trovava l'acqua, perché se noi abbiamo lasciato il camper per esempio in una giornata molto fredda, superiore ai 4 gradi, però molto fredda, altrimenti la valvola, quello è un discorso un po' particolare, la valvola stacca e quindi avrebbe scaricato il volo, supponiamo che l'acqua si trovi a una temperatura molto bassa, quindi intorno ai 4 gradi, quindi una temperatura più bassa, sopportabile senza far staccare la valvola di scarico automatico, noi avremo che questa differenza di temperatura tra 4 gradi e 60 gradi è molto elevata e quindi il tempo per raggiungere i 60 gradi sarà molto elevato. Considerate però che il vantaggio di queste stufe, della stufa combinata, ovvero della Trumatic, vecchio modello e anche il nuovo modello, è che essendo il bruciatore e lo scambiatore di calore all'interno della nostra pentola, in realtà lo scambiatore vi farò vedere, è un bruciatore con delle alettature attraverso nel mantello esterno passa l'aria calda che viene creata dal bruciatore, attorno a questo in maniera circolare, vi metto una foto, la facciamo prima, questo scambiatore viene circondato da un mantello ulteriore dove all'interno c'è l'acqua, quindi tutto questo per dirvi che in realtà l'aria calda che riscalda l'abitacolo riscalda parzialmente anche l'acqua e quindi noi per esempio la mattina quando ci andiamo a lavare il viso troveremo, nonostante non abbiamo acceso la stufa in modalità completa, quindi riscaldamento e acqua calda, troveremo comunque l'acqua calda e questo è un grosso vantaggio. Parliamo un attimo delle spie che si troveranno qui all'interno e ve le farò vedere poi vi metto le immagini. Allora portiamo a zero il cursore, appena ci spostiamo con la ghiera dalla posizione di zero si accende in qualsiasi caso si accende la spia verde di funzionamento qui a destra, quindi in corrispondenza del punto zero all'interno del potenziometro, utilizzando solamente il boiler si accenderà la spia gialla, quindi considerate che la spia gialla è boiler in funzione, è il simbolo di boiler in funzione, quindi sia a 40 gradi che a 60 gradi noi avremo due spie, la spia gialla del boiler, funzionamento del boiler e la spia verde del funzionamento generale dell'apparecchio. Andiamo adesso verso il basso, solamente la fiammella, si accenderà solamente la spia verde, la spia del boiler non verrà accesa, a meno che, e questa è una cosa che è scritta tranquillamente nel manuale e che vi dico la verità sinceramente non mi ricordavo, a meno che la temperatura dell'acqua si trovi sotto i 10 gradi, infatti questa mattina mi è capitato proprio di accendere, prima di prendere il comando l'ho provato, l'ho acceso sul veicolo e mi si accendeva anche in questo caso, quindi solamente con la necessità di riscaldare l'ambiente, mi si accendeva la spia gialla, non capivo perché, questo perché in realtà se la temperatura dell'acqua è inferiore ai 10 gradi si accende comunque il boiler che porta l'acqua a una temperatura di almeno 10 gradi. Ultimo scatto è quello del riscaldamento dell'acqua a 60 gradi e del riscaldamento dell'aria, della temperatura ambiente, quindi si accenderà comunque la spia verde e la spia gialla, la spia gialla ovviamente si spegnerà quando la temperatura dell'acqua è in questo caso arrivata alla temperatura impostata che è 60 gradi oppure nella parte superiore quando è arrivata a 40 gradi oppure a 60 gradi, quindi possiamo anche vedere che la spia già verde accesa, come ci dà l'interno indicazione del funzionamento del comando che quindi abbiamo la stufa accesa, però abbiamo il boiler che è in temperatura quindi non ha nessuna spia accesa. Chiaramente quando riparte perché la temperatura dell'acqua tende a riabbassarsi lui logicamente riaccenderà la spia gialla. Ultima cosa, ultima spia, spia rossa, spia di anomalia. Allora la stufa logicamente cerca di accendere il bruciatore, se per qualsiasi motivo questo bruciatore non si accende, compare dopo qualche tentativo, compare la spia rossa all'interno. Spia rossa significa stufa in blocco. La stufa può andare in blocco per diverse ragioni che non è qui la sede di approfondire, però vi dico semplicemente che è molto importante per la stufa, soprattutto la pressione del gas, è molto importante avere un regolatore perfettamente funzionante. Per quanto riguarda il comando della stufa Trumatec C, credo di avervi detto tutto e penso di essere stato abbastanza esotivo, però se avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti e se volete avere altre informazioni su qualche altro comando, su qualche altro accessorio di cui volete sapere il funzionamento fateci sapere in modo che cercheremo di affrontare l'argomento il prima possibile. Mettete un like se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale, condividete il video, attivate la campanella così potete ricevere gli avvisi degli ulteriori video che metteremo sul canale e come al solito ci vediamo alla prossima.